Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Acrobazia, esibizione e perché no, mettersi in gioco provando il brivido dal mulo. Tutto questo è possibile alla festa dell'area di Caiolo, in programma questa fine settimana presso l'Avi Superfice. Una grande festa tema aereonatico, in cui gli aspiranti piloti potranno avvicinarsi a questo affascinante mondo, accompagnati da istruttori qualificati. La giornata sarà infatti anche l'occasione per raccogliere l'iscrizione al nuovo corso 2017-2018 della scuola di volo dell'Aeroclub Sombrio. Testimonia d'eccezione, ormai di casa all'Avi Superfice di Caiolo, il campione del mondo di acrobazia inaliante, categoria avanzata, Luca Bertossio. Ma se per Luca non si tratta certamente della sua prima esibizione in battellina, sarà invece un primo debutto per i paramotoristi audaci, team di piloti legati da una grande passione per il paramotore. A differenza degli altri spettacoli, il loro sarà caratterizzato da coreografie lenti ed armoniose, accompagnate da un tuttofondo musicale a tema. Spettacoli che costringeranno il pubblico a stare con il naso all'insù. Non mancheranno dunque le occasioni di divertimento alla Avi Superfice in una o due giorni dentro di appuntamenti. Si parte dalle 9 di domani, sabato 9 settembre, in cui l'intera giornata sarà dedicata ai voli di prova degli aspiranti allievi. Dalle 18 invece lo spettacolo dei paramotoristi audaci, seguito poco dopo dalle scintille del Night Show Resbulber Glider di Luca Bertossio. Il giorno successivo si replica, questa volta con l'esibizione dei paramotoristi audaci, in programma al mattino dalle 10 alle 11. E di Luca Bertossio alle 17, ultimo show che chiuderà definitivamente la manifestazione. In entrambe i casi, ci sarà la possibilità di pranzare e prezzorlarmi in superficie.